A Willow Coffee trovi cialde e capsule compatibili con vari sistemi, macchine da caffè, aromatizzati, marmellate e succhi di frutta bio, biscotti artigianali ed in esclusiva la cioccolata militare. Willow Coffee è a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto, 136. Il racconto di un operatore sanitario che presta il proprio servizio per il 118, pubblicato sui social per denunciare le lacune che sono emerse in seguito ad un intervento per un caso che mostrava i caratteri dell'urgenza, ha stimolato questa mattina una serie di commenti da parte di utenti della rete, la gran parte dei quali invoca la necessità di procedere ad una vera denuncia presso le forze dell'ordine. Il fatto che è oggetto del racconto riguarda un intervento del 118, privo del medico a bordo, avvenuto presso il domicilio di un paziente con presunto scompenso cardiaco. Dopo il diniego dei familiari ad un ricovero in pronto soccorso, si è provato a richiedere senza successo un'ambulanza con medico al seguito, quindi la centrale del 118 ha suggerito di interpellare la guardia medica in servizio che, tra le sue prestazioni, include le visite domiciliari non differibili. A quanto pare, il medico in servizio non ha fatto altro che annotare il numero di telefono del paziente e dichiarare che avrebbe effettuato la visita a domicilio solo se si fosse trovato nelle possibilità di procedere. Il racconto della vicenda, alla quale ha assistito l'operatore del 118 presente presso la dimora del paziente, è stato raccolto e condiviso sui social da Alfredo Senatore, portavoce del Comitato Uniti Cava Vietri Costa Damalfi La Salute e Vita, nato tempo fa per seguire le sorti dell'ospedale di Cava dei Tirreni e più in generale per analizzare i disservizi delle strutture sanitarie del territorio. Alfredo Senatore è anche presidente della neonata associazione Figli del 7 agosto 1394. In effetti, proprio ieri è successo un altro aneddoto riguardo il 118, dove un concittadino ha richiesto il 118, dove ben sappiamo che sulla volante del 118 non c'è il medico perché i medici non ce ne sono. Giustamente il 118 non ha fatto altro che richiedere alla guardia medica se poteva interfacciarsi con loro e a quando pare la guardia medica ha detto lasciatemi il numero e poi vediamo. In effetti è assurdo che ancora oggi ci sono cittadini che hanno bisogno di cure di questi medici che non fanno il proprio dovere. Il discorso è questo, mai da troppo tempo questo 118 a Cava non è coperto né come orari né come spazi e tantomeno ci sono medici e di questo siamo molto molto preoccupati perché lo stiamo dicendo da più di un anno e nessuno prende provvedimenti. Sicuramente a breve stiamo cercando di organizzare una manifestazione popolare per fare in modo che tutti, cioè la politica e i dirigenti si svegliano e diano risposte certe a questa città perché, parliamoci chiaro, Cava oramai sulla sanità e allo sbando totale. Faccio già una premessa, sicuramente la settimana prossima ci saranno altri problemi all'ASL dove noi saremo lì pronti a dare una mano e poi vediamo cosa succederà. Noi chiediamo solo una cosa all'assessore e alla sanità, vogliamo sapere cosa vogliono fare, vorremmo una risposta all'assessore e spero che questa risposta lì di presto. Per adesso è solo questa, poi dopo vediamo in da farsi.